No, no, nel senso che non ti faccio aspettare ma scendiamo insieme. Un abbraccio a Fabrizio Menozzi, un abbraccio al Mancino Nicola Simonelli, che ho visto a pranzo per caso, la religione dei Mancini, ovvero l'estro, Bismantovino. Allora Simone, la mia curiosità era questa, le emozioni nell'essere al tavolo con, per me un campione, nel senso che preferisco quel tipo di ruoli, mentre tutti gli italiani impazziscono per gli attaccanti, i bomber. Libutti è un'altra bella figura. Buongiorno a Giacomo Giovanni. Dicevo, io al suo posto sarei felice per essere stato accanto a un eccellente giocatore, al di là della piega che ha preso la carriera, io amo i ruoli marginali, ma in quel momento un tifoso come lei, uno sponsor e tutto quello che sappiamo, sogna di vivere di casa.